a allora c'è quebec che mi sta seguendo la pistola puntata su di me io sono innocente io avrei un po di paura c'è aiuto e io sono l'altro club e io sono l'altro club e non so se lo sapete ma in qui in questo mappa c'è un tester venite qui chi se ne frega perché cos'è mettete lì il tester vai io mettete due ce ne servono dice vai tu no va da lei va da lei se l'assassino vuoi uccidermi con questo ci scommetto ok va bene ai premposante premi hotel vediamo cosa succede venga qui hotel mi difenderò con questo cosa viene fatto vedi non è successo niente merda chi è chi è chi è chi è che ci ha chiusi tutti lì l'idea è stata di mondi ma no ma cosa che si è portato in quella stanza pezzo di merda chi era chilo chi era chilo io so chi è chilo è fruizzo no sono morto io è ma dove è simone no dov'è simone a profondo ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah ha questa risata eh allora è mondi il killer no io me ne so' stato camperato tutto zitto zitto ogni sordine che mi sento ogni sordine che mi vedo lo sai che vedo le tue impronte vale che cioè non è da camperare qua va a fanculo che brutta scena io sono tanto alfa lo sapevo uccidilo uccidilo presto prendi la pistola chi è che aveva la pistola chi è che aveva la pistola chi è che aveva la pistola che era che mira di merda no ha fatto tre colpi ci mette due anni ma che cazzo di pistola quando sei fuori in canna aspettate è entrato qualcuno che palle chi è che mi ha ucciso subito e mondi e mondi è la femmina la femmina fidatevi che è la femmina è come si chiama oh ma ma qui da me c'è un'arma dove sei allora isacco isacco è stato lui è stato lui per forza è la femmina è la femmina ma se io non sono tango io sono alfa non scappare io sono alfa io sono alfa no io lo vedo è tango è tango è tango è tango è tango dove vai di bello mico 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 mi ha ucciso calmati un attimo se stai allora amico se ti calmi non ti uccidere tranquillo sara non ti voglio uccidere facciamo così allora se tu vai in quel trampolino a fine a fine aircraft io non ti uccido ok ok accetto la forza la proposta la proposta ok perfetto bravo ora non vorrei dire ma di sei sparta no mi sono buttato prima che la città salve delta no no tranquillo sono in accetta scappa 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 io non mi fido scappa dietro piccata non è vero senti l'ho visto subito che era strano l'ho visto che era strano tipo adesso mi diceva le orecchie giganti no io sto tranquillamente guardando televisione oh ma io vedo un sacco di pronti giallo 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 la in fondo come ti chiami e simone è in fondo ma sei un coglione non mi convincevi qua qua giallo qua vengo io al prossimo guardiamo un po' di televisione guardiamo un po' di televisione fanno darkstone e bisogno 2 in televisione adesso vedi che muoiono ma sono attenti che muoiono che palle allora adesso possiamo tranquillamente e scusi te rompiamo allora se il nostro pistolero ha ucciso un innocente c'è ma fa bro cosa vuol dire che vuol dire che era rimasto l'unico ok no non sono io che è victor io ho visto no chi è victor sono io victor che è io io sono io non credo a nessuno ti ammazzo se non mi credi e che ti credo una pistola sono io aiuto aiuto yankee giallo è l'assassino yankee giallo aiuto mi sta seguendo mi sta seguendo guardate eccolo ci sono qualcuno davvero è rosso è rosso rosso chi è rosso aiuto ora non riesco ad ucciderla il viola allora e viola e viola e viola ho visto con la coda dell'occhio in te lava no non è rosso chi vuole invece le locote mi ma anche oddio ma non certo tolla chi era sono il cecchino di dota vi sono vendicato Venite nella stanza del capitano Voglio essere liberato Nella stanza del capitano No non si nasconde Dai liberami Non uccidermi No non così Che fai Se quanto amavo farlo Ho vinto prima volta Grazie